La tigre del farweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Yook 43 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio e il compagnolo di cpg Ciao a tutti ragazzi Ragazzi come vedete la colonna è sparuta, è sparuta perchè l'ho tolta io Logicamente magari te che mi rispente ragazzi ho usato i cheat per togliere una colonna Allora ho tolto la colonna ragazzi e abbiamo anche scoperto di chi era la colonna Era di un partecipante della serie al quale ha logicamente chiesto scusa per l'errore Ma era la terza volta che infrangeva il contratto ed è stato non buttato fuori ma è uscito di sua spontanea volontà Anche perchè ha capito e deve essere sbagliato Ora non vi dico di chi è, ve ne accorgerete di chi, a parte un... Vabbè è Derz ragazzi ve lo dico chiaramente E' stato Derz, ha infranto tre volte regolamento e tutti quanti si sono arrabbiati tra virgolette Alla fine ha capito lo sbaglio e lui stesso ha abbandonato la serie Anche perchè dopo un po' quando sbagli una volta e sbagli due ci sta Quando inizi a sbagliare per la terza volta e in riunione o davanti a tutti inizi a ridere Lì i casi sono due ragazzi Non è bello O sei un troll o sei un malato mentale Per cui è meglio così ragazzi è meglio così perchè poi dopo un po' sembra più una presa per il culo Bene ora concludiamo, concludiamo, iniziamo e concludiamo l'episodio Eh Lu? Perchè poi ragazzi perdonatemi ma è come si dice più fai del bene più lo prendi in quel posto Eh lo so sto coso continua a spavolare No la testa dove era? Ho la testa nel cabinetto Vai andiamo avanti Cippo vieni 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 Non perdiamo tempo Allora ora vieni a portare Massimo i boldi sopra Ma eh come facciamo? Ora io ho una mezza quarta idea Mezza quarta? Una mezza quarta idea io ce l'ho Intanto mi carico i pokeball E la mezza quarta idea è proprio questa Facetemi pensare Dai Perfetto Ah dobbiamo star attenti perchè le porte Lu ci aprono le porte No filo dimmi voglio fare una cosa figa Però no 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 ce l'ho del vetro Nice bella GG grazie Eh c'hanno 29 pure io Lu Tieni Serve Te l'ho buttato da terra i vetri Allora One disbando con il vetro Ah ok Nice Allora prendiamo della cosa qua Della sandstone l'abbiamo? Tendstone C'ho io la sabbia Aspetta vediamo Fatto 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 Ebbene esce No c'ho 9 arrenarie Niente Sono poche Ah li vuoi mettere direttamente qua dentro? Allora 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 bisogna farlo entrare e poi chiudere Perfetto Ok Ok però aspetta non mi piace la mordama Aspetta un attimo eh Mh mh Sì sì Perfetto Eh no sì va benissimo Figo Figo Ci sta ci sta Lu Perfetto Ehm Come facciamo portare lì sopra? Ah aspetta Che non ho finito eh Ah pure dall'altra parte giusto Eh perchè io penso a tutto ne Non so ne Sopra Nice Ah ci ha messo la torcia E' però uno ok Nice Ok Ehm 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 Sono veramente pieno Puttagna cagna Poi io te regalo questo questo To il secchio Questo Questo Ok perfetto Ok Andiamo a prenderli Allora per prenderli Facciamo così guardami Mmm Come le scalette? Nice Invenzione Allora Sbam 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 Brava 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 Eh no aspetta Aspetta però qua no Ok Devi metterne uno qua Di rail Iniziali a buttare sopra Ehm Yep Vado subito Vai Vai Spingi Ci sono quasi Ci sono quasi Dai Forza uno Oh No no dall'altra parte Aspetta che tiro una mano a spingerli perchè è lunga la salita Facciamo una alla volta vai Ok Spingi 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 Vai che sto scendendo Spingi No 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 Spingi Noo Ship Non devi saltare Devi stare lì dietro Ok Piano piano Non spingerlo forte Fermo Ok stai lì dietro fermo Vedi ci rimbalza contro Ah si Spingi Spingi Vai Oh ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta Vai Nice Nice Ora lasciamo lì a prendere l'altro Oh Quando sali Quando sali il gradino Aspetta che te lo dico io quando saltare Ok Perché se salti in un momento sbagliato ti supera la rail Ah perfetto C'è la rail del kart Vai Perfetto Fermo Salta Fermo Ok Salta Salta Vai Uissa Oh Fatto Fatto Chip Fatto Chip Minchia che fatica ho Chip hai preso tu la grande qua Ehm Si Si Ce l'ho io ce l'ho io Con il gradino pure io Aspetta Ok Spacco Bam Ehm Ehm Qua però di metterla perchè l'altra parte è qua È caduto È caduto Com'era? Ehm Basta che Aspetta Ok 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 E' il vetro No c'è la colonna Ah bella Nice Nice Perfetto Ah abbiamo i nuovi conculini No No Dov'è andato? Perché saltella? Oh Oh Ciappa la talpa? Che cazzo? Ma che fa? Perché è giù? Oh No Era qua so Perché? Ma perché? No Dai si è buggato Eh si mi sale si Ecco scato Ora è nella terra Dai villager è buggato Nooo Non c'è il kart Prova un po' il kart Usa il kart Usa il kart Usa il kart No 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 Vieni qua Oh 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 nice Nell'angolino Nice Perfetto Dai Oh entra Vai dentro Oh Faccia di cazzo Oh si è alzato Si è alzato Vai proviamo Oh nice Eh ma ho messo Vabbè e lasciamolo qua un attimo Andiamo su dall'altro Vai intanto sistemiamo quell'altro Dai intanto di lo mangiare Andiamo su dall'altro Ma perché è sto bug di merda? Eh dai lascivi Non vedi che sto cercando delle cose? C'è C'è Oh mi stava picchiando uno Ok Eccolo Oh dobbiamo richiudere aspetta E' legna? Che che ce l'ha? Tu Perfetto Vado eh Eh Aspetta però Eh vedi? No Allora non possono stare su Li lasciamo giù Ah vuoi vedere? Si balda quando escono Eh infatti Dovremmo cercare di mettere Aspetta 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 Si dovrebbe essere sbuggato Proprio qua Proprio qua dovremmo andare Si dovrebbe essere sbuggato eh Eh si Eh però E sta lì Cipro ti toglierà il cacchio Oh scusa Dov'è? Oh è qui È qua Che ci fa qua adesso? Ah ma ancora è buggato Lu Vai spacca tutto Finchè non senti che Eccoli Oh E ora è dentro la terra Vai dai Sai che facciamo? Li lasciamo dentro i cammelli qua Così non si buggano Eh si bravo Secondo me si è buggato dopo tutto il tragitto Dai Entra Entra dentro dai Dai babbo Dai guarda Oh bravo Bravo Bravissimo Sai che ti dico cipro No Così possono usarli tutti e non rischiano di spaccarci la casa Li mettiamo qua guarda E facciamo un recentino Allora bravo qua Allora Se lo sposti un po' più così Allora Oh ti togli l'ho detto Vai Ok Non so se hai capito che ti devi togliere Cioè le capitano Babbo dimmi che Ti devi togliere Dai No E ora puoi entrare Testa di cazzo Entra Entra Bravissimo Proviamo a toglierlo Magari non ti bagga più Ehm Oh Chiudi 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 Se ne va sotto E' andato? E' andato sopra Com'è andato sopra? Dov'è? Eccolo Ma io volevo saltare Eccolo Ma tu dove lo vedi? E' qui è qui Dentro la terra Dentro il legno Si dentro il legno E' in testa di cazzo allora Si è ribuggato Aspetta E' qua E' qua Dove? E' qua E' qua su E' nell'orto E' nell'orto Eccolo Ok L'ho sbaccato L'ho sbaccato L'ho sbaccato L'ho sbaccato Dov'è? L'ho sbaccato E' qua L'ho sbaccato L'ho sbaccato Vai togliti Vai la adesso Vai la No è rientrato Basta dare un colpo Ma Non è che magari è un bug che vediamo noi Aspetta un attimo Vai esci Rientra Ok lo vedo bene Lo vedo bene Tu come lo vedi? E' bene Adesso è bene E poi vuoi che si ribugga Andiamo dall'altra parte Andiamo dall'altra parte Che poi se proprio quello lì è perso Il pezzo bugato Vai No ancora guarda No no Secondo me è la legna bugata a questo punto Vabbè devi scendere tanto cipo Facciamo giù No ma io lo vedo normale Abbiamo deciso che lo facciamo giù Scendi giù No ma io lo vedo Oh quanto cazzo corre? Oh quanto cazzo corre? Ma quanto corre oh? Oh oh E' bene per culo Oh No ma che figlio Va bene va bene Doveva scendere Era giusto Ah bene Ora lo portiamo di là Sì vai Ragazzi non posso litigare così io? Mamma mia veramente C'hai carta? Sì sì Arrivo eh Vai vai E' prima che scappi Ma che scappa Adesso lo picchio questo Vai entra dentro Oh Vai Vai dentro Bello 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 Guarda che è qua Vai qua Oh Bravissimo Bravo E ora tu Ti stai di caldo Dico come ho rotto Ma tu ce la sopportavo Vai Entra Vai Andiamo Vai Corri Oh perfetto Muovite Muovite Oh te muovi Vai 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 Perfetto E ora te stai lì eh Però potremmo chiuderlo Lui No ma sai che faccio? Lasciamolo dentro così non si bugga più sta testa di comero Ora guarda Facciamo così Sbang Sbang Sì Ah le casettine Sbang Sbang Bravino Bello mi piace mi piace mi piace Beh Sì Potremmo andare Sì Figo Figo Ma manco se vedi il carter 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 Lo so Lì il carter Nice Figo Dai il motocatto è bello Dai su Bello No aspetta questo portiamo dall'altra parte aspetta Ah dall'altra parte Vabbè quanti binari c'hai Lu? Vabbè voglio Eh allora Ehm Che bello sta roba No È il problema che Dove dirlo la distanza Per farlo uguale Allora due e iniziamo Due e iniziamo qua Sbang sbang Giusto Giusto? Sì Giusto Sta arrivà Sta arrivà Sì A GP Eh dai 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 Corri Dai Eccolo Ciao babbo Ciao Pensavo che si girava Testa ragazzi Mamma mia Quanto ci avete fatto sopportare Mamma mia No Perché Ok perfetto Ragazzi Ragazzi Eh dai E fammi uscire Dai Guardate Qua Guardate qua Chi ci sta Guardate chi ci sta Mamma mia Che vole Che è? Chi ci sta? Massimo Ciao Massimo A ciao Boldi E questo si chiama Boldi Ah c'è Boldi Massimo e Boldi Eh? Nice, nice, ci sta, ci sta Attrochi ballacche, ballacche trichelle Trichelle, ballacche, ballacche No aspetta, ci dai due sca... Facciomi, facciomi Cosa, 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 cosa Facciomi, facciomi, facciomi Che fai? Facciomi Eh, però sono poche Sono veramente poche, ma ce li abbiamo No, no, no Questo è uno Oh, ok Ok Sai che forse non mi piace Ha fatto pure lo screen Chip, chip, chip Andiamo a raccogliere un po' di sabbia Andiamo a raccogliere un po' di sabbia Vieni con me, vieni con me Eh, aspetta Ci dai, la sabbia? Eh, infatti Sto vedendo Eh, arenaria Non ti pancare perché ti picchio Io ce l'arenaria Che serve? L'arenaria, l'arenaria Sì, devi fare le scale Ah, ok, perfetto, perfetto, perfetto Però ce l'ho allora Come fai, sci? Me la molli? Eh, aspetta Le sto facendo le scale No, mica te Questa non sta picchiando Ok, ti ho fatto 16 scale Ti va bene? Vai, vai Ok, tutte Eh, me le prende? Eh, grazie Perfetto Guarda lui Guarda che casetta che si fa Eh, mia, si è capito lui Eh, mia, è stupidito Oh, e fammi uscire È stupendo È entrata forse Stupendo, lui È tutto Spaccato tutto Oh, madonna Sontano lui insieme a lui Oh, ho detto che potrebbe uscire Oh, lui Mamma mia Poteva uscire? No Eh sì, poteva saltare il blocco Ah no, è vero C'è Il rail È tutto calcolato Tranquillo Nice, nice Fai bene, fai bene Ciao Boldi Ciao Massimo Ciao Ciao Gori Ciao Gori Ciao Ciao Cos'è? Oh, almeno quando è chiuso Possiamo mettere il blocco davanti Nessuno lo tocca No, vabbè, volendo No, vabbè, la gente può venire qua a acquistare da loro Cip L'importante è che sono nostri Sì, infatti Sono nostri Eh? Un bel gg ragazzi in chat Vogliamo sotto i commenti Un bel gg E Sono traslattato E nei prossimi episodi vedremo anche forse, credo Vediamo se ci posso Nonna Vuoi fare un saluto che sto finendo il video? Potremmo finirlo anche io Vabbè, ciao nonna Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti